Andiamo a recuperare le diapositive inerenti, dunque buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati a questo nostro ulteriore appuntamento con il Realismo per una fotografia morale dell'arte, grazie ancora ovviamente per chi si è connesso nonostante le tematiche molto interessanti della serata. E ricominciamo appunto il nostro discorso andando facendo il consueto passo indietro guardando la figura che abbiamo visto settimana scorsa di Emile Zola, dunque appunto scrittore drammaturgo, poeta, saggista e scrittore critico politico, appunto figlio di ingegnere che abbiamo visto in un ritratto proprio della prima metà del XIX secolo. Figlio di ingegnere, dicevo, nato a Parigi ma costretto a seguire il padre nei numerosi viaggi di lavoro che gli dovette portare avanti, soprattutto a Marsiglia dove abbiamo visto si forma proprio già il carattere dello scrittore e soprattutto la sua visione prettamente disillusa e disincantata. Un continuo spostamento, anche questo, tra le province francesi e poi di ritorno a Parigi, in Provenza conosce e stringe un legame molto forte che durerà una trentina d'anni con il pittore Paul Cézanne. C'è appunto questa amicizia, anche con lo scrittore Paul Alexis, viene fissata proprio da Cézanne in un quadro, cioè Paul Alexis che legge un manoscritto a Zola del 1869-70, custodito presso il Museo de Arte de São Paulo in Brasile. Un'amicizia, come abbiamo visto, che poi comincerà a scricchiolare dato il fatto che Zola si trasferirà a Parigi per studiare appunto da ingegnere anch'esso e Cézanne lo raggiunge per vivere insieme, ma questa convivenza mostra subito le prime crepe, dati i due caratteri non troppo facili degli artisti. E dunque Cézanne ritorna in Provenza. Abbiamo visto che comincia subito a farsi strada questa idea politica molto forte in Zola, soprattutto durante il periodo appunto subito successivo della battaglia di Magenta, che abbiamo visto in questo quadro di Girolamo Induno, raccontato anche questa mattina nel corso di Storia dell'Arte, dove abbiamo letto proprio una cronaca dell'epoca, dove la gente si riversava nelle strade di Parigi a festeggiare il Carnevale e la vittoria proprio a Magenta, mentre Zola era diciamo l'unico proprio a vedere questo avvenimento solo ed esclusivamente per quello che era in maniera appunto realistica e naturalistica, cioè un campo di battaglia pieno di morti e di feriti. Abbiamo detto che comincia anche, ovviamente poi abbandonerà gli studi, comincia a lavorare come giornalista, stringerà poi ovviamente dei legami fortissimi con tutti gli artisti parigini, soprattutto pittori dell'impressionismo, e comincia a lavorare anche per le edizioni Hachette, che abbiamo visto proprio nel suo servizio di spedizioni, qui in questa foto del 1880 in Parigi. E in quel periodo proprio comincia anche il lavoro di critico d'arte di Zola presso i Salon parigini. Qui stringe un legame molto forte con Edouard Manet, addirittura dati i suoi problemi gravissimi economici, proprio lo stesso Zola chiederà più volte a Manet dei prestiti di danaro. E Manet celebra l'amicizia con Emile Zola proprio in un suo famosissimo ritratto del 1868 custodito presso il Museo d'Orsay di Parigi. Zola continua la sua carriera giornalistica ovviamente tra mille critiche, critiche che si ripercuotono su incaricature, come visto qui nel frontespizio della rivista Le Pylori, dove Zola viene preso per un orecchio da un generale per il famosissimo affare Dreyfus, e dall'altra parte una critica furenta, proprio pesante, al naturalismo di Zola, appunto descritto con lo scrittore che va appunto a studiare scientificamente addirittura una spogliarellista, dunque per ribadire questo discorso qua delle critiche sul suo operato. operato che poi andrà a concentrarsi anche proprio sulla vita di tutti i giorni in Parigi, e soprattutto di chi l'anima proprio dalle prime luci dell'alba. Dunque abbiamo letto un passaggio della Sommoir, un brano introdotto, uno dei sette libri del ciclo dei Rougon Macart, e abbiamo letto proprio il brano intitolato Alla barriera Poissonnet, dove Zola racconta proprio il lavoro degli operai fluviali, che erano soliti già alle prime ore del mattino per sostenere questo carico di fatica pesantissimo, dicevamo appunto erano soliti al mattino già dedicarsi all'alcolismo, come si può vedere in questa locandina sullo stile di Toulouse-Lautrec, proprio sulla sinistra, e per appunto portare avanti questo discorso di fatica di tutti i giorni. Poi abbiamo visto anche un fruttespizio della stessa opera, proprio stampata a Milano, dei fratelli Treves, nello stesso periodo. E andando avanti poi con il racconto della vita di Zola, arrivando alla fine, Zola muore in circostanze abbastanza inspiegabili, soffocato dall'esalazione di una stufa, nel settembre del 1902. E come abbiamo visto poi quando sarà sepolto nel cimitero di Montmartre e traslato poi nel Pantheon, ci saranno degli scontri pesantissimi, e anche l'intervento proprio al funerale di Anatole France, testimoniato da questa stampa proprio dello stesso anno. Dunque questo era il riassunto della lezione precedente. Oggi continueremo la nostra cavalcata realista, tornando in Italia e parlando di uno dei migliori raccontatori sempre di questa tragedia della povertà nelle maggiori città europee. Dunque andremo a Napoli e parleremo di Salvatore Di Giacomo, molto famoso per la scrittura di canzoni famosissime che sono rimaste impresse nella memoria di tutti, meno conosciuto per aver raccontato proprio i bassifondi napoletani con uno sguardo molto molto nitido e molto partecipato dal punto di vista sentimentale. Dunque rimaniamo nell'atmosfera del racconto cittadino, preso dal basso e mirabilmente descritto da Zola, con la figura di un poeta questa volta, e non un prosatore. Dunque dalla prosa di Zola ci spostiamo alla poesia pura di Salvatore Di Giacomo, figlio di quella Napoli, profondamente mutata dal francesismo borbonico. sempre accompagnati però per mano dalla teorizzazione sempre del nostro caro Mario Rapisardi, sviluppata nello scritto la morale, anzi nell'intervento all'Università di Palermo, ricordiamo, intitolato La morale dell'arte, che arrivati a questo punto ci dice Dopo ciò mi pare non sia difficile di mettere al suo vero posto e ridurre ai suoi veri termini il problema della morale nell'arte. Si domanda con molta esistenza da tutte le parti, ma con diversi fini, l'arte ha da essere morale? Ha da essere. Ecco un'espressione che implica una condizione sine qua non, una necessità d'ordine morale che noi non possiamo riconoscere. L'arte è morale per se stessa, l'arte è educatrice. Ecco una risposta molto vaga alla quale si può far seguito con altre domande. Ma che cosa intendete per arte? E che cosa intendete per morale? E come si fa a educare con l'arte? E quali sono i rapporti che l'arte può avere con la morale? Lasciamo agli alessandrini o bizantini che siano tutte codeste questioni di lana caprina. E diciamo subito che l'arte per se stessa non è né morale né immorale, ma può essere l'uno e l'altro secondo i casi, secondo l'età, secondo i costumi dello scrittore. Costumi e scrittore che sono un frutto più o meno tempestivo, ma sempre un frutto del tempo e del paese, o come oggi si dice, del clima storico. L'arte è arte, abbiamo detto, in quanto rappresenta la vita, uno o più momenti della vita di un individuo o di un popolo, di una nazione o di tutto il genere umano. Tutto ciò che esce da questa condizione è cosa estranea all'arte. Può essere e non può essere chiamato a far parte dell'artistica rappresentazione, non come fine, ma come mezzo, non come principale, ma come accessorio. Per questo punto noi abbiamo delle opere di arte belle e nello stesso tempo immorali. E delle opere morali e noiose. E brutto e noioso, trattandosi d'arte, sono due accettivi che si equivalgono. Ma discendiamo un po' dalle generalità. Eccovi la Madonna del Cardellino, dipinta da Raffaello, ed eccovi la Venere del Tiziano. Luna è la vere condia, la castità, la fede ingenua, la purezza dell'anima personificata. Dinanzi a lei non può nascere pensiero se non di cielo, non immagine se non di paradiso. La donna è sparita nella Madonna. La vita si è purificata manifestandosi nella sua forma più spirituale. E di tali altissimi livelli spirituali, però presi dalla crudezza della realtà e manipolati da grande artista qual era per farli diventare opere di rara bellezza, fu testimone appunto Salvatore Di Giacomo, poeta, drammaturgo, saggista ed autore di canzoni romantiche, nato a Napoli il 12 marzo 1860, figlio primogenito del medico abruzzese Francesco Saverio Di Giacomo e di Patrizia Buongiorno, il cui padre insegnava presso il prestigioso conservatorio di San Pietro a Maiella. Qui vediamo appunto Salvatore Di Giacomo in un ritratto fotografico nei primi anni del Novecento e questo rapporto, proprio strettissimo con la musica, dato che il nonno materno insegnava proprio ad uno dei maggiori conservatori non d'Italia ma d'Europa, è rappresentato anche da un fatto singolare, diciamo, cioè l'amicizia di Salvatore Di Giacomo con Enrico Caruso, tenore, appunto che nel 1910, come vediamo in questa diapositiva, regala a Di Giacomo una sua fotografia autografata a Salvatore Di Giacomo, affettuosamente Enrico Caruso. Dunque, la musica entra subito a far parte della vita del piccolo Salvatore e lo accompagnerà per tutto il resto della sua esistenza, alternando anche racconti, appunto come vedremo più avanti, di forte crudezza e di fortissima drammaticità. Salvatore frequentò per volere del padre la facoltà di medicina con scarsissimo entusiasmo, come per Zola, per Flaubert e in altri casi il padre voleva assolutamente che il figlio diventasse un professionista, in questo caso nell'ambito medico. Infatti, il poeta non aveva alcun interesse per gli studi ed era stato scusate, per gli studi ai quali era stato indirizzato. Tanto che nell'ottobre del 1880 abbandonò l'università in seguito ad un celebre episodio raccontato dallo stesso Di Giacomo sei anni più tardi. infatti quando cominciò a scrivere sei anni più tardi opere letterarie che diverranno immortali come anche canzoni dal titolo per esempio opere dal titolo Luna Nova e canzoni come Era De Maggio entrambe del 1885. Questo famoso aneddoto sull'abbandono degli studi e sulla fuga proprio dall'università quindi sull'abbandono dell'università appunto l'autore raccontava di come un giorno recatosi ad assistere a una lezione di anatomia rimase nauseato alla vista del cadavere di un vecchio sul cui volto il professore aveva tracciato cinque o sei linee di demarcazione come diceva il poeta in modo da spiegare la composizione del cranio. Corso fuori dall'aula si trovò suo malgrado protagonista di una scena raccapricciante che probabilmente suggerì l'adesione ad uno stile novellistico diciamo nero. Il bidello che scendeva portando una tinozza di membra umane scivolò riversando il macabro contenuto mentre il giovane Salvatore si diede alla fuga abbandonando definitivamente l'edificio di Santaniello a Caponapoli ed il percorso accademico. Dunque questa scena appunto lo segnò talmente tanto che decise di troncare con l'università di medicina e cominciò appunto a dedicarsi completamente all'arte. Dunque l'attrazione verso la letteratura e la critica letteraria per Di Giacomo divenne fortissima ed alleggerito dal fardello dello studio coatto potè cercare di realizzare i suoi desideri rivolgendosi al Corriere del Mattino diretto da Martino Caffiero iniziando una collaborazione con alcune novelle di genere tedesco le quali cominciarono a farlo apprezzare come appunto novelliere nero infatti questo comincia proprio adesso il rapporto strettissimo con la realtà soprattutto la realtà di fino ottocento a Napoli che era veramente una realtà molto molto complessa cosa che si può vedere appunto da queste cartoline della Napoli illustrata dove Salvatore Di Giacomo pubblicava le sue poesie abbinate a fotografie proprio della quotidianità napoletana con la rappresentazione di questi disperati della gente appunto più povera della città che era solita vagare per le vie appunto del centro storico di Napoli e questa foto appunto è tratta dal Corriere del Mezzogiorno dunque comincia a lavorare per il Corriere del Mattino con questo genere di novelle di matrice tedesca che vennero talmente bene che i capi redattori sospettarono che Di Giacomo le avesse tradotte portandolo a scrivere sempre di più altre novelle in questo senso per dimostrare l'autenticità e spronandolo a continuare nella scrittura divenuto quindi ordinario collaboratore del Corriere assieme a Roberto Bracco instaurò una profonda amicizia durata anche dopo aver lasciato il posto per passare ad altre testate come Propatria Gazzetta Letteraria ed in seguito Il Pungolo nel settembre 1884 perse il padre nell'epidemia di colera che colpì la città pubblicando proprio in quell'anno per l'editore Tocco una copiosa produzione poetica in lingua napoletana che venne pubblicata col titolo Sonetti e questo dramma dell'epidemia colerica del 1884 e la conseguente morte del padre lo segnarono per il resto dell'esistenza infatti possiamo vedere proprio una immagine tratta dall'ordine Corriere Salentino che spiega proprio tutta questa situazione altamente drammatica pandemica che si viveva nel mezzogiorno in quel 1884 è raccontata anche per immagini con tutto un ciclo di stampe acquarelli e disegni proprio che andavano a sancire il fatto questo fatto di questa Napoli completamente distrutta dal colera con i cadaveri che non si riusciva più a proprio a contarli e non si sapeva più dove stiparli infatti poi sappiamo che vennero addirittura diciamo accatastati nelle cripte diciamo del centro storico di Napoli come si può vedere nel cimitero delle Fontanelle famosissimo proprio nel centro della città e quindi in questo periodo comincia a pubblicare la sua produzione poetica in lingua napoletana nei sonetti seguirono poi nel giro di pochi anni le raccolte poetiche pofun coverde del 1885 86 che andremo a leggere tra poco zimunacella del 1888 e canzoni napoletane del 1891 ovviamente di Giacomo scriveva anche in italiano non solo in napoletano però ovviamente per una questione proprio stilistica si dedicava si dedicò quasi totalmente alla ripresa proprio anche dal punto di vista letterario e linguistico del dialetto e proprio per questo motivo anche fu considerato diciamo uno scrittore di bassa lega proprio perché parlare di dialetto in quel periodo era una cosa abbastanza controcorrente e queste pubblicazioni le possiamo vedere in queste edizioni delle poesie e delle novelle e il teatro delle cronache un'edizione mondadori proprio dell'inizio del novecento dicevamo che andremo a leggere appunto un'opera di questo periodo ed è la poesia appunto intitolata Ofunco Verde inserita nella raccolta le poesie e le novelle che questa volta lo stesso Di Giacomo ci descrive dunque lo scrittore ci dice la Napoli dei bassi fondi dei vicoli stretti e bui nei quali sventolano gran pavese della miseria laceri e sporchi panni stesi ad asciugare e dove si accalca una folla di miserabili che accettano con rassegnazione la vita e mettono al mondo tante e tante altre creature destinate alla stessa esistenza di povertà e di fame la Napoli chiassosa e pittoresca quale si ritrova in tutta la tradizione del suo folklore e delle sue canzonette ha appunto il Salvatore Di Giacomo il suo commosso ed umano poeta la letteratura veristica si compiace come noto di rappresentare sai spesso la vita degli strati più umidi della società ed in questa tendenza si inserisce lo scritto che però lungi da ogni proposito di analisi freddamente scientifica ed obiettivamente distaccata canta la sua gente con pienezza di partecipazione affettuosa e con accenti di tenera pietà nel vicolo maleodorante e tetro non c'è l'avvilente degradazione dei bruti e basta il chiacchierio di una fontanella gaia o il morbido profilo di una gatta affacciata a una finestra a conferire all'ambiente squallido e desolato un tocco di gentile ed umile bellezza appunto mentre leggerò la poesia potremmo vedere proprio due immagini tratte da quel periodo dei fondaci di Napoli quindi un classico fondaco ritratto proprio prima e dopo il risanamento dell'epidemia colerica del 1884 e in questo ambiente e soprattutto per questo ambiente di Giacomo scrive perdono per l'accento chiste o funco verde a bascioporto a do sedisce cavonna allarga e allargassero sì non hanno tuorto cacca non se può manco ricciata dintastuvico un truppe cuse stuorto manco lo sole ci si può impazzare e addimannate uno solo c'è muerto per l'u colera di due anni fa ma sta disgrazia sì per un momento voi ci trasite non vi pare vera sono morta vinta ne sono nate ciente e sta gente inzavata e strella zera cresce sempre e mo sono mille e trecent non è nuvico è una scarra funera e quando dinto forte dell'està dorme la gente e dormendo lì casa dinta contro ora non si sente nà nisciuno vide asci nisciuno tras gente ve pare che non ce ne sta ma che puzza appilate ve lo naso certi volte ve saglia vum k su le centen kill pan spaz una fontanella d'acqua doserina d'intan angolo all'ombra chiacchiarea e ghen sempre nucatil kino e po nu muntuscel de menest l'iscar de verde de na scar farea e na gatta affacciata a na fenesta quindi questo è il fondaco verde appunto nella traduzione il fondaco verde giù al porto dove si dice che vogliono risanare il quartiere allargandone le vie e appunto il la risposta del poeta è sì che le allargassero no e magari le allargassero non hanno torto perché qui non si può neppure respirare dato appunto il lo spazio angusto e la folla la moltitudine di folla presente il fondaco verde era un vicolaccio scusate al principio della strada di porto che poi viene distrutto nei lavori del risanamento appunto che vediamo in queste rappresentazioni molti vicoli in prossimità del porto si dicevano fondachi per essere stati un tempo depositi di mercanzie dai quali poi sono state ricavate le abitazioni nel 1886 quando di giacomo pubblicò per la prima volta questi sonetti stavano per essere iniziati i lavori del risanamento edilizio di napoli e già dai primi versi si delinea l'atmosfera propria di questa miserabile zona dove il popolino viene ammucchiato in un tanto scusate in un tanfo che mozza il respiro e dunque anche in questo caso come in Zola però con molta più partecipazione sentimentale abbiamo questo dramma proprio provocato dalla pandemia colerica che dilaga in tutti i vicoli della città di Napoli e in questo vicolo malagevole e tortuoso neanche il sole dice il poeta può penetrare ma se vi informate saprete che uno solo vi è morto per il colera di due anni fa dunque qui diciamo che di Giacomo fa una provocazione e appunto dice si voi vedete queste strade storte piene di gente sporche dal tanfo insopportabile però solo uno è morto per il colera di due anni fa quindi non è proprio del tutto da buttare via la zona infatti si allude sempre all'epidemia colerica che infierì su Napoli nell'884 e la vitalità popolana trionfa anche dalla mala sanità dell'ambiente e resiste alle epidemie e dai flagelli più gravi dunque una sorta di appunto stendardo fiero che viene innalzato dal di Giacomo ma questa disgrazia se per un momento ci entrate non vi sembra vera continua il poeta per venti che sono morti cento ne sono nati e qui si allude sempre alla grande voglia di vita delle famiglie napoletane è la prolificità prorompente del popolo meridionale che si moltiplica con straordinaria progressione adonta della miseria e della fame quindi la vita procede e si afferma sempre ed inesorabilmente sulla morte dunque questa gente sudicia e chiassosa cresce sempre e ora appunto siamo arrivati a 1300 dunque non è un vicolo è una tana di scarafaggi no ovviamente sempre per questo parallelismo dovuto tra il popolo e gli animali più infimi dell'esistenza e della realtà in un pensiero che era portato avanti da molte personalità anche politiche e quando nel cuore dell'estate la gente dorme e dormono le case nell'ora della siesta appunto la controra non si sente un A e non vedi uscire nessuno nessuno vi entra come se appunto alla controra tutte le persone sparissero completamente dalla circolazione e i vicoli e il centro storico di Napoli diventasse un qualcosa d'altro e reso in questi versi il senso grave della arroventata estate del sud che tende a far rientrare tutti nelle case anche se sudice maleodoranti e piccolissime quando nella canicola appunto si stende sugli uomini e sulle cose un torpido velo di sonnolenza e di languore a questo punto vi pare che non ci sia nessuno ma che fetore turatevi il naso in qualche maniera e certe volte appunto può venire da vomitare al solo vedere quei panni sciorinati in quella sporcizia assolutamente incredibile ma in tutto questo il vicolo è immerso nella solitudine e nell'abbandono rimane comunque a testimonianza delle innumerevoli presenze umane serrate dietro quegli usci e il puzio neusabondo che esala dalle case dall'astricato connesso sconnesso dal sudiciume della miseria scusate dalla sudiciume della misera biancheria penzolante dalle finestre si fa protagonista in questo scenario entra quella visione poetica e positiva della fontanella dunque una fontanella d'acqua del serino in un angolo all'ombra fa sentire il suo chiacchierio e riempie sempre un secchio pieno l'acquedotto appunto del serino era stato inaugurato a napoli nel 1885 dunque qua di giacomo ci dà anche un'informazione proprio di carattere di cronaca dato il suo lavoro di giornalista e in questa fontanella che continua il suo chiacchierio un mucchietto di verdura i cocci verdi di una bottiglia e una gatta affacciata a una finestra completano la visione appunto della scena e per andare a porre l'accento su una parola molto interessante usata dal di giacomo cioè scafarea è più propriamente un recipiente di terracotta verniciato nella parte interna con rozzi disegni in verde dunque ritorna anche proprio la citazione dal titolo il fondaco verde in questo verde utilizzato anche come verniciatura propria nell'utilizzo di questo recipiente di terracotta utile alla vita di tutti i giorni dunque una visione molto interessante anche proprio dal punto di vista descrittivo della scrittura di di giacomo e arrivati al 1892 salvatore di giacomo fu tra i fondatori della nota rivista di tipografia ed arte napoletana Napoli nobilissima qui vediamo appunto il volume 1 della rivista pubblicata nel 1892 da benedetto croce giuseppe ceci michelangelo schipa e appunto salvatore di giacomo una una rivista no molto autorevole no dati anche i nomi di chi scriveva e si vede benissimo anche proprio dalla decorazione del frontispizio quindi entra a far parte no di questo circolo di Napoli nobilissima insieme a croce appunto e anche vittorio spinazzola e nell'anno dopo ricoprì l'incarico di bibliotecaria presso la biblioteca del conservatorio san pietro a maiella dove insegnava il nonno materno per poi spostarsi alla biblioteca universitaria e alla biblioteca nazionale vittorio emmanuele terzo divenuto bibliotecario bibliotecario capo addirittura nel 1925 di Giacomo aderì molto probabilmente per convenzione al manifesto degli intellettuali fascisti e fu nominato accademico d'Italia nel 1929 appunto che un titolo che agli antifascisti assolutamente non poteva essere dato e il clima era talmente ovviamente sappiamo benissimo pesante e poi conosciamo l'esploit che ebbe e vediamo proprio un'immagine non del 1929 bensì del 1934 l'anno in cui morì il di Giacomo un'immagine di Roma che riassume molto bene la propaganda fascista dunque la facciata di Palazzo Braschi sede della federazione fascista di Roma durante la campagna appunto per le elezioni politiche del 1934 e questa diciamo grafica si commenta da sola dunque di Giacomo aderisce al manifesto degli intellettuali fascisti però continua a scrivere le sue opere in dialetto e soprattutto anche continua la sua opera di scrittore di canzoni e fino al 1903 il poeta aveva goduto di grande popolarità ed unanimi consensi ma la sua produzione era sempre relegata all'inserimento nell'etichetta di poesia dialettale infatti la critica da un lato ammirava moltissimo la produzione artistica di Di Giacomo dall'altro si finiva sempre a dire ok però è poesia dialettale come se fosse una cosa di minore importanza sappiamo comunque che dal punto di vista proprio letterario strettamente la poesia dialettale è molto molto più complicata rispetto a quella in lingua italiana anche solo per quel discorso di ricerca proprio del lessico che si fece sempre più difficile in quegli anni non ancora perché vi era molta gente che parlava in dialetto però mano a mano le persone che sapevano parlare benissimo in dialetto diminuirono e dunque anche questo discorso delle origini dialettali delle varie regioni si andò a perdere uno studio promosso da Benedetto Croce apparso in quell'anno sulla critica giovò molto sulla popolarità dell'artista e cercò di dissolvere un equivoco frequente infatti secondo Croce un autore è innanzitutto poeta e di Giacomo aveva saputo e dimostrato di eccellere nel verseggiare si era impadronito della poesia tucur per cui la lingua in cui veniva espressa assumeva un aspetto secondario dunque era poesia in tutte le lingue in cui si potesse dimostrare e appunto sviluppare dunque proprio il croce va a sancire questa importanza della ricerca dialettale e anzi la eleva proprio a massima espressione della poetica di Giacomo a tal proposito il poeta Francesco Gaeta citando lo scritto crociano ne stabiliva le linee essenziali infatti Gaeta scriveva Salvatore Di Giacomo è sic et simpliciter un poeta quanto all'aggettivo grande esso traspariva dall'intero contesto dello studio dunque anche per Gaeta proprio addirittura ancora di più Di Giacomo era assolutamente un poeta fatto e finito e la sua grandezza traspariva proprio nell'intero contesto dello studio di ricerca verso la parola dialettale dopo essersi sposato il 20 febbraio 1916 ed essere stato nominato nel 29 appunto come abbiamo visto accademico d'Italia arrivando al 1930 mentre si trovava in villeggiatura a Sant'Agata sui due golfi presso Massa Lubrense Salvatore Di Giacomo fu colpito da un malore dovuto a un disturbo alla vescica dopo qualche giorno si riprese ma col passare del tempo il male lo costrinse al riposo assoluto in questo caso ha avuto ed ebbe un destino diciamo molto simile a quello molto simile ma molto diverso dal punto di vista proprio medico molto simile però da quello psicologico a Caruso proprio perché entrambi erano affetti da malattie gravi e debilitanti dunque si dovettero mettere a riposo ovviamente Caruso molto di meno e questa malattia li portò piano piano alla morte infatti Di Giacomo morì nella sua abitazione di via San Pasquale a Chiaia nella notte del 5 aprile 1934 all'età di 74 anni qui vediamo la la sepoltura di di Salvatore Di Giacomo presso il cimitero di Poggio Reale a Napoli che ovviamente sta andando sempre di più in rovina dove vi sono custodite anche le salme di Croce e di altri pensatori proprio della città e di personaggi illustri dunque Di Giacomo muore e ce ne offre un ultimo racconto che racchiude appunto appieno l'artista il giornalista napoletano Roberto Minervini che si focalizzò anche proprio sul carattere di Di Giacomo e Minervini scrisse a tal proposito alle trattorie di lusso preferiva nascoste osterie ove tra una pietanza e l'altra rimaneva trasognato né valevano a ridestarlo le sue canzoni sonate e cantate per fargli onore dai posteggiatori di quei pittoreschi locali non amava Marecchiaro la più celebre di tutte perché veniva indicato non come l'autore di Ariette Sunette o Assunta Spina che per inciso è un dramma scritto e tradotto dall'omonima novella nel 1888 ma veniva riconosciuto proprio come l'autore di Marecchiaro il puntuale riferimento lo infastidiva e lo innervosiva una sera al Gambrinus abituale convegno di letterati giornalisti e uomini politici gli fu presentata una signora che non gli risparmiò il dolore poco dopo fu visto allontanarsi salutando appena con un gesto quindi appunto abbiamo scoperto anche che Di Giacomo era in molto infastidito quando lo riconoscevano più per le canzoni scritte piuttosto che per le poesie appunto e per anche le opere teatrali o drammaturgiche appunto che aveva scritto nel corso della sua carriera addirittura alcune interpretate da Titina De Filippo e concludendo questo nostro discorso sul Di Giacomo citiamo un breve brano di una critica di Antonio Ghirelli che ne offre un dipinto azzeccatissimo quale cantore originale ed originalissimo dell'apparente belle époque napoletana descritta limpidamente ed idealmente come un coscienzioso artigiano infatti qui c'è proprio il parallelismo sempre tra arte artigianato caro molto caro ai filosofi soprattutto dell'ottocento e Ghirelli riprende questo questo tema e ci racconta proprio secondo la sua idea critica quale è stato e quale fu appunto l'apporto del Di Giacomo all'arte letteraria con questo appunto chiuderemo il discorso e ci sembra doveroso proprio perché la descrizione risulta molto molto puntuale dunque Ghirelli scrive il segno più originale della presenza di Salvatore Di Giacomo nella Belle Epoque partenopea sta nella sua sdegnosa estranetà alle mode letterarie che imperversavano in quell'epoca il classicismo professorale di Carducci il patetico decadentismo di Pascoli e di Corazzini l'immaginifico barocchismo di D'Annunzio che pure a Napoli era di casa chino sul foglio bianco come un grande artigiano Don Salvatore si isola dal frastuono delle gazzette e dei salotti dedicandosi piuttosto a portare ad estrema perfezione uno strumento personale che non somiglia a nessun altro il vernacolo mediato sì dalla realtà popolare ma filtrato attraverso esperienze altamente sofisticate che vanno dai lirici greci dell'epoca di Saffo all'opera buffa dell'epoca di Paesiello passando per la narrativa del cortese e del basile la fusione che egli realizza tra la struttura colta del suo dialetto e la tradizione parlata attinge la perfezione nei versi delle ariette e delle canzoni nuove dove la parola si libera in un aere musicale e appare disposta a vivere per ritmi e metri in una trepidantissima aura di suggerimenti dunque questa era la descrizione appunto di Ghirelli sulla sulla ricerca letteraria di Di Giacomo e vi è sempre questo parallelismo tra scrittura e musica proprio andando a citare anche Paesiello altro grande insegnante del conservatorio dove era docente appunto il nonno materno di Di Giacomo diciamo in questa continua ricerca tra parola e musica la parola musicale e diciamo la musica parlata addirittura andando a riprendere proprio tutta la tradizione diciamo magno-greca arrivando alla poesia di Saffo che viene collegata proprio alla musicalità di Paesiello quindi un riassunto efficacissimo che comprende sempre anche quella caratteristica propria dei napoletani che di tutta una questione anche drammatica ne possono fare una questione artistica e musicale quindi io detto questo concludo anche per questa sera la nostra lezione sul realismo vi ringrazio ancora una volta per la presenza per la costanza per la pazienza dato che a quest'ora appunto non è facile seguire un corso del genere e questa sera un ringraziamento ulteriore proprio per aver scelto questa questo appuntamento rispetto ad altri forse magari credo proprio più interessanti dal punto di vista prettamente storico comunque abbiamo fatto un bel viaggio bel si fa per dire comunque un viaggio profondo e approfondito soprattutto nella cultura realista proprio della letteratura di Giacomo nella Napoli dell'Ottocento quindi come di consueto lascio sempre la possibilità e il tempo per degli interventi o delle curiosità o quant'altro e poi vi rimando al nostro prossimo appuntamento della settimana seguente quindi prego chi vuole intervenire può farlo benissimo Adriana prego grazie buonasera senta nell'immagine mi sentite? sì sì prego prego buonasera scusi buonasera no no niente tutto a posto nell'immagine di prima quello dei vicoletti di Napoli eccetera dove si parlava di risanamento si può vedere un po' ingrandito non riesco a capire bene la differenza tra le due immagini ma è proprio quello il discorso è proprio quello perché praticamente non c'è molta differenza tra prima e dopo il risanamento proprio perché appunto il problema rimase anche perché conosciamo anche la recrudescenza colerica che arrivò negli anni 70 del 900 dunque si cercò si tentò di fare una specie di risanamento che in soldoni consisteva praticamente nel gettare i cadaveri tutti da una parte fondamentalmente no e si sono si è cercato anche di riportare un pochino di decoro ai vicoli no in certi casi riuscito in altri meno comunque da quel momento in poi anche da quel momento in poi Napoli rimase sempre una città dal centro storico abbastanza complicato sia dal punto di vista architettonico sia da quello sociale dunque ho preso proprio questa immagine perché in effetti non si vedono tanti cambiamenti e questo è anche perché guardando proprio leggendo il fondaco verde si capisce ancora meglio proprio il clima che tra parenti almeno secondo il mio punto di vista Di Giacomo ha saputo raccontare benissimo perché poi la produzione letterale di Di Giacomo è vastissima a parte le canzoni e le opere teatrali la parte poetica è veramente nutrita e se si ha la pazienza di leggere in dialetto si ritrovano delle figure molto molto interessanti che solo un napoletano poteva tirar fuori sì sì effettivamente sì sì era molto bella la poesia ma infatti ho voluto concentrare ho voluto concentrare il discorso su Di Giacomo anche perché molti magari lo conoscono per Era de Maggio per Mare Chiaro forse tanti non non sanno tutto il trascorso letterario e anche poi quelle testimonianze proprio reali della storia che lo hanno segnato dal punto di vista artistico e vitale dunque sembrava degno di nota ecco infatti grazie grazie a lei signora grazie mille allora nel frattempo che qualcun altro pensa eventualmente a qualche altra domanda vi vi invito la settimana prossima il mercoledì per chi ovviamente ancora non frequenta di venire al corso di storia dell'arte dalle 11.30 perché ci sarà una sorpresina per voi ovvero faremo un tour virtuale quindi siete benvenuti anche lì se volete esserci vi aspettiamo e tutto il resto della sorpresa lo saprete poi direttamente mercoledì ovviamente aspetteremo assiosamente ovviamente beh sì è mia abitudine non svelare nulla quindi è successo anche nelle altre visite virtuali che ho già fatto che magari tanta gente che sono tutte molto molto belle ma dove andiamo scopriamo scopriamo sempre qualcosa di diverso che appena ci liberano vediamo di mettere un po' a frutto queste nuove conoscenze beh sarebbe interessante sì molto molto interessante anche solo il racconto di magari siti e palazzi magari musei o opere già viste che però non sono state diciamo raccontate magari prima oppure o delle quali non si conosce il racconto dunque un metodo ancora per andare nel profondo del della tecnica artistica ma anche poi delle ricerche intellettuali nel corso dei secoli che gira rigira poi sono tutte legate a filo doppio una con l'altra comunque credo che sia una sorpresa abbastanza interessante ecco credo come sempre tutte le sue interventi ma perché lei frequenta anche il corso di storia dell'arte giusto sì 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 da quando ho scoperto cerco di seguire salvo quasi raramente ogni tanto che proprio non riesco però cerco di seguire tutti gli appuntamenti certo grazie grazie fa molto piacere scusate ma anche questo sarà registrato vero? eventualmente sì sì Fabrizio sì sì credo che non ci siano altre domande Milo quindi va bene facciamo un saluto generale a tutti quanti sì sì allora vi ringrazio nuovamente e a costo di essere pedante vi rimando appunto al nostro appuntamento di settimana prossima come diceva Evelina per il corso di storia dell'arte dalle 11 e mezza a mezzogiorno e mezza per la visita virtuale e alle 16 scusate alle 18 e 45 19 e 45 per il prossimo appuntamento con il realismo che andrà a parlare di Charles Dickens dunque settimana prossima parleremo di Dickens perfetto grazie a tutti grazie a te grazie buonasera grazie a te